allora amici di youtuber per non farci mancare niente terza parte del filmato il mi babbo poco fa ho trovato questo ovuletto smangiatino ora invece guardate qua e mentre che stavamo raccogliendo questi che abbiamo trovato questa piccola fungaia ha telefonato domenico domiciu che bello guarda 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 in diretta ha telefonato miciu e quindi li dedichiamo tutti a miciu questi qua gli ovulis siculis e anche ai ragazzi che domani sera arrivano gli stiamo facendo vedere che oggi non ci facciamo mancare niente il mi babbo con la siga e guardate qua guardate venite qua guarda si e guardate in diretta che bel porcino che ho trovato questo poi lo raccogliamo dopo guardate gli ovuli allora si si uno questi domi sono per te eh tu non hai saputo andare a foresta oggi per problemi di orario e questi te li dedichiamo tutti a te già eh va bene ok mamma mia qua la pietra è pericolosa e quindi stiamo cercando di di fare attenzione eh il cesto inizia a prendere colore arancione va bene ok saluta papà ciao a dopo ciao ciao